Il corone sonore di Zimmer sono spettacolari ed erano secoli che aspettavo questo evento. Ho visto la locandina e ho detto prendo subito. Sentirla così dal vivo è straordinario. Il fatto che siano state riarrangiate, molto emozionante, è stata la prima volta. La maggior parte delle colonne sonore mi riempivano proprio di emozioni. Sbalorditivo, veramente. Spero che si rifacciano spettacoli del genere. E ho consiglio a tutti di venire e vedere. È stato meraviglioso. Grazie.